Vittoria di Fratelli d'Italia presentati i nuovi parlamentari marchigiani l'alluvione entra nel bilancio della regione chiesti fondi straordinari cartoceto incendio doloso alla sede della polizia arrestato il responsabile ritrovamento degli scheletri in piazza del popolo tanti pesaresi all'incontro con gli archeologi i tal service l'oretto basket ancora più forti assieme a riviera banca buonasera benvenuti al nostro telegiornale di oggi mercoledì 28 settembre che apriamo con l'onda lunga di questa elezione che ha sancito Fratelli d'Italia primo partito del paese e che ha avuto nelle marche un consenso anche superiore alla media nazionale questa mattina Rossini tv è stata ad Ancona dove ha raccolto le voci dei deputati e senatori marchigiani eletti in quella che sarà la forza politica più rappresentativa della regione Ancona 28 settembre a tre giorni dalla chiamata alle urne che ha sancito Fratelli d'Italia primo partito del paese il coordinamento regionale del partito di Giorgia Meloni si è ritrovato oggi per analizzare i risultati di questa vittoria ricordiamo una vittoria con il 29 per cento di consenso nella regione Marche contro il 26 a livello nazionale analisi della vittoria Ringraziamento per gli elettori e anche un ribadire il senso di responsabilità e l'occasione unica che ha il partito per governare questo paese Oggi erano presenti cinque neoparlamentari eletti di Fratelli d'Italia Elena Leonardi e Guido Castelli al Senato Lucia Albano Antonio Baldelli e Stefano Benvenuti Gostoli alla Camera Cinque parlamentari di Fratelli d'Italia su 15 eletti nelle Marche dunque la forza maggiormente rappresentativa della regione ancora più forte perché di fatto i parlamentari marchigiani sono sei con la scolana Arachelle Silvestri che è stata eletta in Abruzzo Ascoltiamoli a cominciare dalla coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia Elena Leonardi Abbiamo risultato che nella nostra regione ci vede anche sopra la media del risultato nazionale Siamo sicuramente soddisfatti della fiducia che i marchigiani ci hanno riposto e sapremo sicuramente lavorare per la nostra regione per le tante partite aperte con la serietà che il momento impone Il primo impegno è confermare il lavoro che in questi anni ho portato avanti all'interno del ruolo, all'interno della Camera e della Commissione Finanze alla quale sono stata assegnata Il primo impegno sarà quello di sicuramente rimettere le Marche al centro dell'agenda Italia quindi il centro Italia questione centrale per la nostra nazione Personalmente per carattere la soddisfazione viene un po' offuscata dal grande senso di responsabilità perché chiaramente andare in Parlamento in questa fase della storia dell'Italia con il governo chiaramente che verosimilmente sarà affidato al nostro partito è una grande responsabilità, ci sono enormi problemi da gestire quindi contentezza sì però il senso di responsabilità e un po' di ansia prevale dico la verità Io sono stata eletta nella regione Abruzzo che è comunque la regione limitro fa le Marche quindi problematiche simili quindi continueremo a lavorare soprattutto adesso con il governo con comunque l'aiuto e l'ausilio del presidente Acquaroli ma anche il presidente Marsilio per cercare di portare sui nostri territori che hanno problematiche simili sia infrastrutturali a livello di terremoto a livello di crisi economiche e industriale cercare di portare comunque sia un miglioramento e tutte le risorse utili per cercare di risollevare questi territori che per troppo tempo sono stati comunque sia da pannaggio della sinistra Per quello che riguarda la provincia di Pesero Orbino Fratelli d'Italia avrà la sua rappresentanza nelle Pergolese e Antonio Baldelli è eletto alla Camera attraverso il listino plurinominale Ho cognato uno slogan quello dal governo delle Marche alle Marche al governo perché purtroppo la nostra regione è sempre stata una regione cenerentole fra le regioni italiane perché? Perché è mancato un'adeguata rappresentanza parlamentare chi ricorda che ad esempio le Marche in questa legislatura ha avuto addirittura un sottosegretario allo sviluppo economico chi ricorda una azione importante per la nostra regione di questo sottosegretario quindi il compito della nutrita pattuglia di parlamentari di Fratelli d'Italia sarà quello di rappresentare in maniera egregia le Marche al governo Presenti questa mattina i parlamentari eletti ma non solo, anche i candidati non eletti gli esponenti del partito un quadro che dipinge il cosiddetto modello Marche citato anche da Giorgia Meloni un modello sul quale è stato solleticato anche l'assessore regionale Guido Castelli che ora approda al Senato lasciando la giunta a Quaroli e chissà che non possa esserci anche un ministro che arriva dalle Marche Giorgia Meloni è impegnata in un dossier complesso, articolato su cui l'attenzione e la speranza degli italiani si va concentrando quindi confideremo delle scelte che sarà parte della coalizione ma quello che è più importante è che questo voto ha dato una conferma al buon governo anche della regione del resto anche da parte dell'opposizione c'era stata un'evidenza molto enfatizzata sul significato di questo voto rispetto anche al giudizio rispetto al governo a Quaroli mi pare che gli esiti facciano pensare che ci sia una approvazione importante, significativa e senza ombra e avete ascoltato poco fa appunto in questo servizio anche Guido Castelli neo, senatore e ancora per poche settimane assessore al bilancio della regione Marche proprio l'assestamento di bilancio sarà al centro del Consiglio regionale di domani quando saranno discusse specifiche richieste a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione in questi giorni in Consiglio regionale si sta discutendo la nuova manovra di bilancio una manovra che quindi prevede risorse nuove che vengono messe a disposizione delle comunità marchesane noi riteniamo che alla luce di quello che è successo siano necessari aiuti, sostegni per tutti quei territori che sono stati colpiti dall'ultima alluvione un alluvione che ha interessato le famiglie, quindi i cittadini ma anche molte piccole e medie imprese dal nostro punto di vista sono necessari i contributi a fondo perduto anche perché in molte situazioni si tratta di famiglie che hanno difficoltà economica che hanno avuto anche dei danni molto importanti o di attività che se non sostenute realmente con contributi a fondo perduto faranno sicuramente difficoltà a riaprire abbiamo presentato quindi un maxi emendamento per un valore di oltre 8 milioni e mezzo di euro ci auguriamo che venga accolto anche perché a tutt'oggi la giunta regionale ha previsto solamente sostegno al credito cioè nuovo credito seppure interesse zero ma comunque credito cioè che deve essere risorse e soldi che devono essere comunque ridati anche a rate ma devono comunque essere ridati non riteniamo invece che per queste realtà siano importanti risorse a fondo perduto ma anche che questi aiuti arrivano velocemente e senza troppe lungaggini burocratiche il rischio è che molte attività rischiano appunto di chiudere per sempre e quindi dobbiamo intervenire con contributi a fondo perduto velocemente e cercando di ridurre al minimo tutta la burocrazia che rende difficile qualsiasi tipo di richiesta Continuiamo a parlare di politica in questo caso di politiche giovanili quelle che il Comune di Pesaro vuole potenziare situendo ufficialmente il Forum Comunale dei Giovani Grazie alla delibera di consiglio approvata il 12 settembre da quest'anno ovvero dal 15 novembre al 31 dicembre ci si potrà accreditare al Forum Comunale dei Giovani è un organismo nuovo che abbiamo istituito formalmente come Comune di Pesaro e che raccoglie le grandi esperienze di partecipazione e di confronto che abbiamo già avuto con i giovani negli ultimi anni tavoli giovani, tavoli studenti, spazi underventi abbiamo fatto ordine, abbiamo consentito e consentiremo a coloro che sono rappresentanti di associazioni giovanili associazioni culturali, mondo del terzo settore mondo del lavoro, associazioni di categoria rappresentanti degli studenti, rappresentanti universitari e anche singoli come anche rappresentanti di associazioni informali gruppi informali di partecipare a un bel luogo di confronto un luogo di confronto che darà modo all'amministrazione di avere un canale di comunicazione esclusivo con cui fare attività propositiva e consultiva quindi a cui proporre le delibere, le scelte che si faranno come amministrazione ma saranno poi gli stessi giovani a proporre all'amministrazione con canali diretti, proposte, idee e chiaramente anche critiche perché saranno tanti momenti di confronto e siamo sicuri che saranno anche tanti i ragazzi e le ragazze che si accrediteranno a questo nuovo forum invito tutti ad andare sul sito del comune di Pesaro in forma giovani, troverete la sezione forum giovani con cui potrete leggere il regolamento se potete accreditarvi e quindi se siete giovani tra i 16 e i 29 anni quasi sicuramente sì e tra il 15 novembre e il 31 dicembre troverete anche il forum di registrazione con cui poter partecipare effettivamente ai lavori che partiranno da gennaio Ed ora cambiamo argomento, curiosità e partecipazione di cittadini oggi alla cosiddetta chiacchierata con l'archeologo che il comune di Pesaro ha allestito in Piazza del Popolo alla luce dei recenti ritrovamenti di scheletri umani e di altri reperti architettonici di epoca medievale Allora vediamo il servizio Una chiacchierata con l'archeologo è stato nominato così il primo di un paio di incontri in Piazza del Popolo ideato dal comune di Pesaro in collaborazione con la soprintendenza per fare luce sulla storicità dei resti ritrovati nel sottosuolo della piazza durante i lavori di rifacimento della pavimentazione Lo studio Tecne, coordinato dall'archeologa Erika Valli dopo essere entrato in contatto settimana scorsa con dei reperti scheletrici umani risalenti al Medioevo ora ha a che fare con la scoperta di alcune mura di edifici sempre del 1500 abbattuti in quel periodo per fare spazio all'ampliamento di Piazza del Popolo Un appuntamento quello di oggi che ha attirato tanta curiosità da parte dei cittadini che in questi giorni si sono alternati dietro le transiene della piazza per carpire nei minimi dettagli i segni del passato della città di Pesaro È stata una bella occasione di racconto per dare a tutti i pesaresi curiosi, ai ragazzi, agli studenti e anche agli appassionati di storia soprattutto agli appassionati di storia un racconto di come stanno procedendo queste fasi che si intrecciano alle lavorazioni sulla pavimentazione della piazza quindi grazie al lavoro degli archeologi sotto la direzione scientifica della sovrintendenza abbiamo pensato di organizzare un paio di appuntamenti come questo informali aperti a tutti per riportare le varie scoperte che si stanno facendo quindi è stata un'occasione per riscoprire anche un pezzo di storia della nostra città che non si conosceva e che non era emersa neanche con le prime fasi di indagini realizzate con il Gioradar nel mese di marzo questo tipo di scoperte rimarrà nel sottosuolo anche perché è il miglior modo in questo modo per conservarle già abbiamo visto in questi giorni come queste aperture la mattina siano piene purtroppo di rifiuti portati dal vento che si finiscono per depositarsi lì che poi ogni mattina gli archeologi ripuliscono quindi in questo momento abbiamo condiviso una serie di interventi assieme agli archeologi, assieme alla sovrintendenza che poi consentiranno di riportare la piazza nella sua piena fruibilità Gli scavi e gli studi degli archeologi che stanno proseguendo da diversi giorni non nascono dal bisogno di ricerca e di conoscenza di quello che il sottosuolo della città di Pesaro può offrire ma nascono da un'esigenza improvvisa dettata dai lavori della piazza lavori della piazza che comunque proseguiranno parallelamente nei tempi previsti e che non verranno interferiti dalle ricerche condotte dal gruppo archeologico Nella giornata di domani arriverà un'altra squadra di posatori che inizierà il posizionamento dei San Pietrini così come delle lastre in giallodistria parallelamente proseguiranno i lavori della sovrintendenza lavori della sovrintendenza che proseguiranno per altri 10-12 giorni per poi elaborare i dati finali raccolti e comunicarli pubblicamente Ed ora passiamo alla cronaca perché è stato arrestato il responsabile di un tentativo di incendio doloso alla sede della polizia locale di Lucrezia di Cartoceto Si tratta di un 68enne che lo scorso weekend attraverso un innesco rudimentale aveva tentato di dare alle fiamme la porta d'ingresso secondario del comando Tempestivo l'intervento del comandante Luca Renzi che lavorando all'interno della sede si è accorto del fumo e ha prontamente provveduto a spegnere il fuoco evitando che le fiamme divampassero all'interno dell'edificio Grazie alla vidro sorveglianza installata e alla collaborazione dei carabinieri di Cogli al Metauro è stato possibile identificare il responsabile e rintracciarlo presso la propria abitazione L'arrestato era stato fermato nella stessa mattinata per guida in stato debrezza con relativo ritiro della patente e a quanto pare è stato questo il movente che lo ha indotto ad una dissennata ritorsione verso la polizia locale L'immagine che vi mostriamo ora si riferisce invece ad un elicottero dei vigili del fuoco che nel tardo pomeriggio di ieri è dovuto atterrare nel territorio comunale di Urbania per recuperare un trentenne che si era perso nei boschi in località Calucio Il ragazzo in questione stava cercando tartuffi insieme ai due cani ma nella ricerca ha smarrito il sentiero per tornare all'auto Chiamati soccorsi i vigili del fuoco hanno deciso di intervenire con l'elicottero per l'imminente calare della notte Localizzato il giovane lo hanno issato col verricello sull'elicottero insieme ai due cani Tra i mesi di ottobre e dicembre Banca di Pesaro offrirà 192 visite di prevenzione gratuite ANT riservate a soci e correntisti dell'istituto di credito e ai loro familiari Si tratta di un'iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione e un sostegno alle attività di fondazione ANT verso le persone malate di tumore Sono otto le giornate di visite previste, quattro per la diagnosi precoce del melanoma e quattro dedicate alla tiroide Tutte le otto giornate si terranno all'ambulatorio ANT Sabino Palma in corso 11 settembre 219 a Pesaro Le visite per il progetto melanoma sono già prenotabili e si terranno il 18 e il 24 ottobre e anche il 9 e il 18 dicembre Le visite per il progetto tiroide sono prenotabili esclusivamente dal 22 novembre e si terranno da martedì 13 a venerdì 16 dicembre Parliamo ancora di prevenzione sanitaria perché a Villa Borromeo di Pesaro prosegue il ciclo di incontri organizzati dall'Associazione Diabetici di Pesaro dal titolo Diabete Ieri, Oggi e Domani Sfide e cure per il benessere della persona Dopo l'incontro di metà settembre dedicato alla gestione del diabete 1 Domani, giovedì 29 settembre alle ore 18 e 30 si terrà il secondo appuntamento con il ruolo della pediatria ospedaliera e il ruolo della pediatria territoriale Ad analizzare criticità come quella dell'obesità infantile saranno il direttore di pediatria Marchenord Monica Santoni e la pediatra pesarese Mirca Marangoni Si ricorda che tutti gli appuntamenti a Villa Borromeo sono a ingresso gratuito con prenotazione al 370-155-7524 A questo stesso numero si può anche prenotare l'incontro conviviale al costo di 20 euro che segue ogni appuntamento E cambiamo di nuovo argomento Domani, giovedì 29 settembre alle ore 21 al Teatro Sperimentale l'attore, scrittore Ascanio Celestini presenterà in anteprima il suo libro Cosa ci mettiamo in quel vuoto? Il libro è stato illustrato da ALMA ovvero Associazione Libera Marchigiana Animatori che dal 2020 unisce artisti dell'animazione del disegno e del fumetto provenienti dalla Scuola del Libro di Urbino La serata si aprirà con la proiezione di brevi corti animati cui seguirà l'intervento di Celestini Nell'occasione sarà anche allestita una raccolta fondi in favore dei territori alluvionati delle Marche E concludiamo questa edizione con lo sport perché questo weekend c'è il debutto casalingo dell'Ital Service Calcio a 5 ma anche l'esordio stagionale del Loreto Basket rinforzato quest'anno dall'unione della stessa Ital Service Due realtà ancora più solide grazie alla partnership con Riviera Banca che è stata siglata questa mattina nella sede dello stesso istituto bancario È un bel colpo questo perché Riviera Banca andrà a supportare le due realtà sportive, l'Ital Service Calcio a 5 e l'Oretto Basket Assolutamente sì, come ho detto in conferenza stampa per noi quando uno sponsor entra e ci affianca in un percorso è una grandissima vittoria e quando uno sponsor come un istituto di credito, una banca e quindi realtà solide, sane, certe, sicure ci affiancano è una doppia vittoria perché come ho detto ci sono tanti sponsor, aziende, negozi però quando una banca affianca una realtà come la nostra per noi è qualcosa di veramente importante e ci fa capire quanto stiamo diventando importanti noi su questo territorio e che possibilità possiamo dare come marchio, come rivelazione e come proprio processo sportivo Riviera Banca è una banca di credito cooperativo che affianca da sempre realtà sociali ma anche sportive come in questo caso Sì, credo che sia proprio nei suoi compiti istituzionali quello di sostenere il territorio e il territorio va sostenuto affiancando tutte le attività le associazioni no profit sia nello sport, nella cultura, nell'imprenditoria quindi il Riviera Banca non risparmia in questo tipo di attività perché è uno degli argomenti più importanti che legano appunto la banca al suo territorio Importantissimo il weekend che sta arrivando perché sabato e domenica ci sono due partite molto importanti Assolutamente sì, infatti l'abbiamo detto partiamo subito diciamo il weekend col botto come si dice perché sabato sera alle 18 gioca l'Ital Service all'Orito Basket alla Baia Flaminia tra l'altro un derby col basket giovani quindi partita bellissima io sono curiosissimo di vedere questa prima partita di campionato e invece domenica pomeriggio alle ore 16 gioca l'Ital Service Calcia 5 col Melilli che è una neopromossa al Palafiera giochiamo domenica perché questa società siciliana ci ha chiesto la possibilità di giocare domenica in quanto avevamo già fatti i biglietti poi probabilmente le partite casalinghe dell'Ital Service Calcia 5 passeranno al venerdì sera quindi ritorneremo alla formula del venerdì sera mentre l'Orito Basket le partite casalinghe l'Ital Service e l'Orito Basket le giocherà sempre la sabato pomeriggio Per tutti coloro che vogliono abbonarsi all'Ital Service e l'Orito Basket potranno farlo proprio sabato giusto? Assolutamente sì io ho avuto tante richieste di tanti miei amici che per mancanza di tempo non sono riusciti a fare l'abbonamento all'Orito e quindi abbiamo aperto la biglietteria perché comunque ci sarà un biglietto che costerà 5 euro perché abbiamo voluto mettere un filtro un minimo filtro anche per valorizzare il nostro prodotto e in più oltre al biglietto che costerà 5 euro ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento che costa 50 euro per tutta la stagione proprio perché tante persone mi hanno detto abbiamo la possibilità di fare l'abbonamento e quindi abbiamo dato ecco questa possibilità di sottoscrivere la tessera sabato pomeriggio e diamo la possibilità di sottoscrivere la tessera per l'Ital Service e Calcio 5 domenica prima della partita col Melilli la biglietteria aprirà alle 14 e quindi chi vorrà fare l'abbonamento la tessera dell'Ital Service e Calcio 5 può venire e farla direttamente domenica pomeriggio al Palafiera e allora davvero buon fine settimana dedicato allo sport con queste due squadre tutte pesaresi intanto però questa sera vediamo qual è il programma su Rossini TV alle 21.20 nella nostra prima serata vi mostreremo in collaborazione con Fedic, Cine Club, Cesare Pandolfi, Pesaro questo bellissimo documentario realizzato dal nostro Giorgio Ricci l'artista Franco Fiorucci racconta l'opera La Passione un bel documentario che vi consigliamo di guardare mentre domani torna la nostra rassegna stampa quindi vi aspetto alle 7.20 in diretta sia sul canale 80 che sulla nostra pagina Facebook e poi vi ricordiamo che venerdì 30 settembre alle 21.20 trasmetteremo integralmente lo spettacolo teatrale che è andato in scena qualche giorno fa al teatro sperimentale che si chiama Soundfield e Luce le poesie di Carlo Pagnini e le musiche di Fabio Masini il direttore del Conservatorio mentre domenica un altro appuntamento con la diretta dal Duomo di Pesaro alle ore 16 si accendete Rossini TV canale 80 potrete vedere la Santa Messa d'imposizione del Palio all'Arcivescovo presiede il nunzio apostolico in Italia al Monsignore Emile Schering grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata